buongiorno buongiorno e benvenuti di nuovo in diretta su fotografia professionale benvenuti 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 oggi diretta speciale perché la prima diretta in assoluto della nuova rubrica che abbiamo chiamato il domandone benvenuti e benvenuti a tutti allora eccoci qua eccoci qua buongiorno buongiorno francesco buongiorno maurizio buongiorno alan ciao ragazzi buongiorno hermano buongiorno caetano roberto bene bene siamo sempre qua in tanti e sempre pronti allora allora buongiorno oggi giornata particolare dedicata a domande e risposte ho qua un foglio di domande quindi chi mi ha scritto in privato o chi ha scritto sotto al post soprattutto chi ha scritto sotto al post ha già preparato un po di domande e quindi siamo già pronti a dare delle risposte ciao nick buongiorno buongiorno ok allora 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 arrivati in questo momento gli zotto non pensavo arrivassero così presto eh sono veloci eh in uno zotto ha 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 che battuto e si scollegarono in 50 in questo momento allora fino ad oggi siamo arrivati a 42 dirette 42 dirette in cui abbiamo visto un po di tecnica abbiamo visto un po di cose su photoshop su lightroom su capture one oggi incominciamo con il primo mercoledì di domande non so se riusciremo a rispondere a tutti ma facciamo il possibile e non avendo le viste fabrizio faccio fatica spiega a dirti cosa ne penso martin è uno veramente molto bravo quindi ne penso il bene che penso di martin quindi da quel punto di vista non ho non avendo le viste non non te lo so dire ok ora eh eccoci qua eccoci qua eccoci qua allora eh oggi domande risposte eh domani domani di cosa parliamo domani parliamo di eh in realtà siamo già pronti quindi domani parliamo di ve lo dico subito oggi è il 22 domani 23 pennelli di photoshop dopo domani selezioni e eh sabato facciamo correzione di immagine dinamica correzione di immagine in action ok e poi dopo domenica marketing come sempre eh oggi domande e risposte incomincio rispondo ehm a ehm incomincio rispondendo alle domande che mi avete fatto sul post poi dopo eh piano piano eh vanda la fai dopo magari prima rispondo a quelle fatte sul post magari se stiamo parlando di lightroom avete una domanda su lightroom sì se stiamo parlando di una cosa particolare che riguarda la photoshop avete una domanda su quello fatela ok? Bien allora incominciamo a ehm rispondere ai nostri domandoni prima di tutto vi ricordo una cosa la miglior risposta che voi possiate avere alle domande che avete su lightroom su photoshop e su ehm e su è sicuramente nei corsi eh nei corsi trovate un capitolo per ogni eh per ogni cosa eh ci sono qualcosa come 126 lezioni su ehm photoshop eh e trovate veramente una marea di risposte quindi le risposte le avete sicuramente nei corsi che adesso le ragazze vi postano a quando un webinar su che ne ero già fatto eh come faremo senza l'appuntamento quotidiano delle dirette quando finirà la quarantena non è detto che tu debba farne a meno ehm ok selezioni dopo domani e parliamo di selezioni perfetto ciao Simone quando fai ctrl shift alt ctrl alt shift e chiudi livelli in una torta strati faccio una ehm un livello unito di tutti i livelli visibili è chiaro che nel caso da trotta strati tiro un muro eh è come metterci una lastra di ferro in mezzo non passi più da una strata all'altro quello è ovvio quindi cerchiamo di farlo il meno possibile allora cominciamo a eh parlare di noi poi piano piano eh eventualmente rispondo alle altre domande eh poi arriviamo anche alla tavoletta allora ti rispondo subito Roberto una domanda sulla tavoletta gratica quando stacco la penna faccio ancora molta fatica a non spostare il punto mentre alzo la penna questo è un discreto problema nel fare i tracciati piazzo il compito con precisione nel sollevare la penna mi si sposta allora tu piazzi il punto e fai click quando sollevi smetti a meno che tu non abbia gli input attili attivati e allora a quel punto può darsi che ti dia fastidio quello prova a disattivarli c'è un tastino di fianco nella intuos pro un tastino verde guarda sparisco un attimo ok qua nella intuos pro qua c'è una piccola levetta che va a staccare o a riattaccare gli input attili disattivi gli input attili e può darsi che quello ti aiuti se invece un problema di quando stacco il punto mi si sposta è che perché probabilmente ti muovi prima di alzare quindi clicchi alzi e poi ti sposti altrimenti lì forse una questione di abitudine ok ok le ragazze nel frattempo vi hanno postato il video corso di photoshop ti porti allora tutti i livelli aperti fino alla fine certo sempre e comunque e poi li lascio aperti anche dopo ok allora andiamo a vedere un pochino di risposta la prima domanda me la fa Dante che mi dice come sono settate le tue preferenze di Lightroom per utilizzare Lightroom e velocizzarlo un pochino allora velocizzare Lightroom un pochino è abbastanza ostica nel senso che Lightroom per alcune cose non è velocissimo è migliorato le mie preferenze in realtà sono semplicissime nel senso che io ho impostato una serie di cose per esempio delle impostazioni catalogo o una gestione file che fa un anteprima di qualità media e questo può essere più che sufficiente a meno che tu non abbia bisogno di un'anteprima di qualità alta ok la il lato maggiore dell'anteprima standard 2560 pixel e quindi per me bastano e avanzano ok e questo è una cosa già la dimensione dell'anteprime o il fatto di non utilizzare le anteprime avanzate ti velocizza un pochino la gestione del catalogo una cosa che sicuramente velocizza Lightroom e avere dei cataloghi con poche immagini quindi non avere il catalogo che deve ricalcolare tutte le volte i collegamenti a tutte le immagini o comunque avere un catalogo più flessibile altre cose direi che non ce ne sono enormi la cosa principale a parte la modifica esterna che uso pochissimo che viene fatta in tiff adobe rgb 8 bit compresso le zv poi c'è un secondo editor esterno che è capture one ma anche in questo caso lo uso mai gestione file e interfaccia non ti danno dei grandissimi problemi nel caso dell'importazione con creazione dng l'anteprima jpeg r a e a dimensione reale ma non importo mai in dng interfaccia non fa nessun problema a livello di prestazioni e uso il processore grafico cioè uso il processore grafico della della radeon pro e mi permette di essere un pelo più veloce diciamo così ma non non è che sia determinante e determinante per essere veloci con lightroom avere un disco abbastanza veloce che gestisca bene il lavoro con i raw una cosa che io ti consiglio per rendere lightroom più veloce è sicuramente quella di lavorare con catalogo e immagini sullo stesso disco tendenzialmente sull'hard disk se hai un hard disk veloce lavora su quello io in questo momento sto lavorando su un macbook pro nuovo il 16 pollici per capirci e devo dire che è una macchina più parecchio veloce andiamo a vedere velocemente se volete informazioni su questo mac sono 64 giga di ram 124 gigahertz intel core i9 core eccetera eccetera ok quindi diciamo che la macchina è veloce questo aiuta sicuramente a essere a essere più rapidi ok non sei passato al programma ok meglio così non vi ho fatto vedere la mia scusate grazie transizione transigo avete ragione perdonatemi vado a lightroom ok eccomi qua adesso mi dovreste vedere ok mi dovreste vedere mi dovreste vedere mi dovreste vedere ok è passato non so per quale motivo vi da questa schermata di lightroom mi vedete in movimento adesso è tutto a posto speriamo perché da una schermata di lightroom totalmente assurda cambio immagine vediamo se funziona o se continua a trasferirvi un'immagine surreale sì però è ferma interessante questa cosa aspettate un attimo è allora scusate stacco lo schermo proviamo proviamo scusate è un problema tecnico prova aggiungere una cattura schermo ok bene adesso ci dovrebbe dare ok adesso dovreste vedere lightroom correttamente vediamo se funziona no non è il mac e la e la transizione della diretta probabilmente che non ha ancora funzionato come deve adesso dovrebbe farlo date di un secondo che c'è o ecco qua ci siamo adesso ci dovremmo essere perfetto allora vi dicevo lightroom preferenze tendenzialmente non ho grandi cose la modifica esterna viene fatta se la faccio in photoshop la modifica esterna in classico apri con o modifica in no quindi apri come modifica in quindi tiff adobe rgb 8 bit a 300 dpi perché altri sito ppi perché non torna indietro ok se no fatelo a 16 bit se avete intenzione di fare avanti indietro fra lightroom e altro per quello che riguarda la gestione la gestione file con l'importazione con la creazione del dng applico l'anteprima normale nel mio catalogo nelle impostazioni catalogo ho la qualità dell'anteprima media ok quindi anteprime standard e anteprime medie e di qualità media bastano e avanzano l'altra cosa è in prestazioni uso la gpu per l'elaborazione dell'immagine quindi uso tutto quello che l'acceleratore grafico per capirci per avere più velocità il consiglio è e non si vede la parte destra andiamo a vedere se possiamo migliorare questa cosa andiamo a vedere se possiamo migliorare questa cosa centriamo la ok adesso dovreste vedere tutto ok si vede tutto date di qualche secondo e oggi ho fatto un po di lavoro sul monitor e si vede che il software che utilizziamo per il trasferimento delle immagini non ha amato non ha amato questa cosa fra l'altro adesso cattura lo schermo lo mettiamo anche sotto perfetto dopo di che dovremmo davvero esserci oggi problemi tecnici come la prima volta sembra di essere tornati alla prima volta ok adesso si dovrebbe vedere tutto bene allora quindi le prestazioni sono fondamentalmente aiutate dall'utilizzo della scheda grafica della scheda video ma soprattutto sono aiutate dalle prestazioni della macchina quindi se avete bisogno che Lightroom sia più veloce gli accorgimenti secondo me principalmente sono tre uno non utilizzare le anteprime avanzate due utilizzare le anteprime standard tre utilizzare cataloghi piccoli quindi cataloghi con non troppe immagini perché comunque un catalogo con molte immagini un pochino vi rallenta il catalogo in sé è più lento o almeno lo era poi se l'hanno migliorato non lo so altra cosa è avere un disco ssd e una macchina tendenzialmente veloce chiaro che nel momento nel quale mi chiedete come fai a far andare Lightroom più veloce ho un mac i9 8 core nuovo con 64 giga di ram va più veloce di così è chiaro che quello aiuta se avete una macchina che fa un pochino più fatica fate dei test fate delle prove il consiglio è quello di utilizzare le anteprime che vi servono cioè non usare delle anteprime troppo grosse perché se non nel ricalcolo dell'anteprima Lightroom ci mette del tempo e perde del tempo l'attivazione dell'accelerazione grafica sicuramente aiuta nell'uso dei plugin quindi nell'applicazione dell'esposizione di tutto quello che vi serve vado alla seconda domanda che mi fa Ermano che mi dice ho tante immagini ok ottimizzazione delle immagini ho tante immagini doppie o triple allora la cosa fondamentale se hai tante immagini doppie e triple è da ora in poi in file importa foto e video ceccare non importare possibili duplicati altrimenti continui a importare immagini e continua a essere un problema e questa è sicuramente una cosa fondamentale da fare e che devi fare sempre per evitare questo problema la generazione delle anteprime standard ok così evitiamo le anteprime 1 a 1 che possono essere più pesanti e tendono comunque a rallentare tutto se avete domande nel frattempo fatele ragazzi poi diciamo tante immagini bianche quando hai un'immagine nel catalogo che non ti serve la selezioni in libreria backspace c'è la freccia indietro e la cancelli e lui ti chiede la vuoi eliminare dal disco o la vuoi rimuovere solo dal catalogo io di solito rimuovo solo dal catalogo ma se sono immagini bianche e nere che sei sicuro che non ti servono rimuovi ok o scusami eliminare dal disco a quel punto ti liberi anche dello spazio ok fede rispondi a paolo nava che dice vorrei partareci per l'accademia ma sono di roma così gli dai una risposta e magari programmate una call francesco se hai domande sì se voglio arriviamo anche a questo alla riduzione ho tante immagini bianche quindi le elimini semplicemente le prendi e le elimini ho delle immagini fuori posto allora hermano cosa intendi per fuori posto perché se per fuori posto vuol dire che sono nelle cartelle sbagliate all'interno dell'hard disk bisogna che te le metti in ordine e che fai un po' di ordine se invece sono fuori posto nel senso che sono all'interno di una raccolta sparpagliate allora all'interno di una raccolta tu puoi spostare un'immagine per esempio crea una raccolta paesaggio e me le vado a spostare qui dentro ci metto tutte le mie immagini di paesaggio le tiro qua e se voglio metterle in un ordine diverso all'interno di una raccolta posso farlo posso spostare un'immagine o l'altra all'interno di una raccolta posso fare un ordine diverso ok se invece sono spostate sono in posizioni sbagliate nelle cartelle a quel punto io non sono un ninja ti devo dire la verità del riordino delle immagini delle cartelle da dentro l'itro ma ti metti lì e te le metti in ordine ordinando le cartelle per anno e per argomento il consiglio è quello di farlo sull'hard disk ok di farlo nella maniera più conservativa possibile e di fare backup di tutto spero di aver risposta alla domanda Bruno mi dice chi era che parlava dell'ordine dell'immagine ho un catalogo e voglio dividere in più cataloghi come faccio? fai questo questo è il catalogo Lightroom 7 ho creato un nuovo catalogo faccio un nuovo catalogo e lo chiamo paesaggio facciamo un nuovo catalogo faccio un nuovo catalogo lo salvo sulla scrivania lo chiamiamo lo chiamiamo lo mettiamo nella cartella domandone e lo chiamiamo catalogo nuovo catalogo da cataloghi ok lo creo bene faccio il primo dei miei nuovi cataloghi adesso si chiude si apre Lightroom speriamo rapidamente nel frattempo vediamo le domande altra domanda sul ritocco di paesaggio nell'altro giorno era davvero necessario passare a Photoshop non sarebbe stato meglio restare su Capture One per utilizzare al massimo la potenza del RAW allora in un processo di post prima si fa la parte in cui si sfrutta la potenza del RAW poi quando ho bisogno di fare un altro tipo di ritocco per esempio ho bisogno di lavorare meglio con le maschere a quel punto passo in Photoshop ok? ma non è necessario sempre per le prestazioni di Lightroom secondo me è fondamentale l'SSD ecco l'SSD secondo me in questo momento per quanto lavorano quanto sono pesanti i software necessari in generale cioè lavorare senza un SSD in questo momento con la pesantezza di un software come ad esempio Photoshop è veramente difficile è possibile tenere un catalogo su un NAS? allora in questo momento credo che lavori anche su NAS è una domanda alla quale se avete una risposta dategliela prima non lo faceva Capture sì allora una mimica fotografe ha un problema con il Lightroom ovvero in galleria dentro una cartella o una raccolta non dinamica non riesce a spostarle quindi cambiare l'ordine non la filtra piccata, il menu visualizzano, l'ordine lasciata in default in più molte foto sono selezionate con Command Control non si delle selezionano allora di solito quando hai... adesso facciamo un'importazione così allora come faccio a dividere le foto? importala a un altro catalogo così ti rispondo anche a quella domanda vado a scegliere un catalogo Lightroom lrcat vediamo vediamo dove li troviamo se no sulla... dentro lavoro in corso forse fotografia professionale paesaggio non c'è il catalogo qua perché non mi trovo i cataloghi Lightroom ma cerchiamo catalogo bello che non me li trovi adesso se mi fosse stato così furbo da guardare dove era quello prima probabilmente era meglio perché non mi trova nulla benissimo allora andiamo a fare così lrcat tutto non li trovi non li trovi non li trovi facciamo prima aprire quello prefile andiamo qua scusate oggi è la giornata in cui mi incarto dunque cerchiamo Lightroom catalog meno 7 che facciamo prima ok file importafoto da un altro catalogo Lightroom catalog meno 7 non trova niente oggi fantastico fantastico niente allora riproviamo apri recente nitidezza difetti grading andiamo a vedere se mi trovo a botan sandwich ok Lightroom non trova niente questo è di grande soddisfazione torniamo indietro un attimo scusate oggi non trova niente non è esattamente in grande forma allora vi rispondo intanto a un paio di domande maddalena vorrei sapere se in Lightroom è meglio tenere lo sharpening a zero o lasciare il valore di default se poi in photoshop applico uno dei metodi per migliorare lo sharpening e per quanto riguarda radius in detail allora ci andiamo io di solito lascio il default perché è abbastanza easy cioè è abbastanza soft in alcuni casi puoi azzerarlo se dai una nitidezza molto forte per quanto riguarda radius in detail poi torno a rispondervi ai cataloghi ragazzi per quanto riguarda radius in detail qua in nitidezza il raggio è sempre a uno dettagli a 25 sono quelli di default diciamo così tendenzialmente di default non fanno grandi danni ok se andate ad aumentarli invece come sapete lo sharpening è un pochino pessimo però io di solito li lascio di default ciao a questo proposito quando faccio le maschere in lightroom il mio mac fa molta fatica e anzi rallenta sempre di più il lavoro sul file un mac i7 32 gb di ram c'è un modo di alleggerire il lavoro mano a mano che si avanza nel lavoro con le maschere in lightroom fai le maschere in photoshop che sono più veloci da fare io mi rendo conto che la risposta è un po' da va bene poi letti vaffanculo allora però di fatto ragazzi è la cosa più veloce in assoluto vedo se trovo il lightroom catalog da qua perché se no abbiamo un problema diverso non mi trova i cataloghi di lightroom forse è un problema del mio mac in questo momento in questo momento lightroom sta lavorando catalog sta lavorando intanto rispondo alle domande si tendenzialmente per lightroom tende sulle maschere a essere piuttosto lento perché lo appesantiscono molto di solito quelle di photoshop sono un pochino più veloci c'è un modo per rivedere tutte le dirette sì adesso le ragazze vi risponderanno se faccio un catalogo per ogni lavoro posso fare una raccolta dove metto alcune foto di cataloghi diversi sì facendo quello che sto cercando di fare ma che oggi non mi permette di fare andiamo a vedere se per esempio lightroom catalog 7 data di ultima apertura dovrebbe essere uno degli ultimi cerco di capire dov'è così faccio prima trovarlo immagini lightroom ok va bene allora torno al catalogo precedente così vi faccio vedere quello che intendevo ho creato un nuovo catalogo completamente vuoto stiamo perdendo un sacco di tempo scusatemi la teniamo più lunga così cerco di rispondervi adesso ti rispondo Lidia anche a questo eccoci qua allora vado a pescare da un altro catalogo quindi io creo un catalogo nuovo vado a prendere il mio catalogo generale in questo caso io so dove andare a prendere perché altrimenti mi dava qualche problema andiamo in immagini lightroom qui dentro c'è lightroom 7 catalog scelgo lui mi fa vedere un'anteprima di quel catalogo ok nel quale io posso andare a prendere solo le foto che mi interessano quindi deseleziono tutto seleziono solo le foto che mi interessano quindi solo queste quattro qua e le importo in questo modo fra l'altro mi fa vedere anche le raccolte quindi posso già scegliere dalle raccolte interne dell'immagine in questo modo io faccio l'importazione e lui mi importa solo quelle foto in questo modo voi potete tranquillamente dividere un catalogo di 500 miliardi di immagini in 50 cataloghi da 500 cataloghi da un miliardo di immagini se sposto un catalogo dal computer ad una memoria esterna l'itro mi dice che non leggi i file considera che sposto anche i raw non devi cambiare il nome alle cartelle se tu sposti il catalogo in una memoria esterna cambiando nome alle cartelle lui fa fatica a trovarle può anche darsi che lasciandolo anche nella stessa cartella lui comunque perda la perda diciamo così il percorso il percorso però glielo puoi far ritrovare tranquillamente questo è qua dentro in Islanda per Simone vediamo se me lo apre sul hard disk vediamo vediamo mostra nel finder ok ok Islanda per Simone io adesso prendo uno qualsiasi di questi file diciamo il 187 lo sposto per farvi vedere come fare è veramente semplice lo metto sulla scrivania e lui lo perde ok lui dovrebbe perderlo speriamo perché se no facciamo una figura infima e lui non l'ha perso andiamo in sviluppo me lo hai spostato vero oggi ragazzi è la giornata delle delle impossibilità andiamo a fare così no non l'ha perso è fantastico me lo segue comunque quello che succede per andare a cercarti i tuoi file è che tu devi semplicemente andare sul punto esclamativo che si creerà e mi sto domandando perché non l'ha fatto ragazzi oggi non funziona niente di quello che vorrei mostra nel finder riportiamolo qua riproviamo Islanda per Simone io quella foto da qua l'ho tolta ah no c'è ancora la sposto da qua facciamo così ok e adesso si dovrebbe incacchiare eccolo qua punto esclamativo ok punto esclamativo io gli dico individua lo vado a cercare la foto si chiama LR questa qua la seleziono e lui le trova se sono 40 foto lui le trova tutte una volta che gli ha ne ha dato una quindi è più veloce però l'essenziale è quando sposti da un disco all'altro le foto non cambiare nome alle cartelle ok ma una volta finito quel catalogo le esporti anche nelle cartelle per archiviarlo in che senso io non esporto i catalogo cioè una volta che ho finito lo sviluppo esporto i tif e archivio anche quelli il catalogo lo lascio con me lo salvo dove ci sono tutte le immagini ok allora avete altri dubbi su catalogo quindi se metto un catalogo principale di Lightroom sul NAS posso lavorarci comodamente da qualsiasi computer fino a un po' di tempo fa no c'è qualcuno che ti ha dato una risposta spero e credo perché non usando NAS e usando poco Lightroom ultimamente ok temo che diventerebbe una ok la versione 2018 non lo consente la inizianza di Lightroom può lasciarla così con me è meglio non utilizzare ok va bene si lavora sul NAS io semplicemente ho creato un'alia sull'HHD del Mac che punta la cartella delle immagini sul NAS ok poi importo la Lightroom eccetera eccetera ok disco SSD di quale marca lo consigli allora disco SSD ragazzi sull'hard disk possibilmente cioè un computer con un disco SSD per quello che riguarda i dischi SSD dipende io tendo a non lavorare direttamente su dischi SSD esterni i dischi SSD esterni che ho sono Samsung o SanDisk vanno benissimo tutti e due ma queste foto sono foto che hai fatto te no queste foto sono foto che ha fatto Gianfranco Fantin che è un nostro allievo di Accademia in Islanda io scatto sì sì assolutamente ok vado avanti la taratura dei monitor ne parliamo dopo ok andiamo avanti allora ciao Simone apri mai un RAW sviluppato in Lightroom o in Camera Raw come oggetto avanzato in Photoshop per eventualmente apportare modifiche allo sviluppo successive no perché tendenzialmente come dicevo all'inizio la post è una roba secondo me un po' da arroganti cioè la post è prendere decisioni io quando faccio sviluppo prendo le decisioni una volta che le ho prese andiamo avanti per quella strada lì ok tutto quello che stiamo guardando adesso c'è nel videocorso di Lightroom completo classic che adesso le ragazze vi postano se non l'hanno fatto ok quindi riusciamo a rispondere sto rispondendo un po' random alle domande ma nel corso trovate tutto ok bene vado avanti ma voi avete di fare ragazzi sì ci sarà qualcuno che vi dirà di fare meno cataloghi qualcuno che vi dirà come me di farne uno per ogni lavoro dipende dal tipo di impostazione come vi trovate meglio cosa vi dà meno problemi da lì andate allora no se tu Stefano mi dice ma se usando Capture Lightroom crei un catalogo con ogni importazione se poi sposto su un'altra di tutta la cartella con i role il catalogo il resto si apre tranquillamente o bisogna rifare tutti i collegamenti no se tu sposti il catalogo in una cartella che non cambia nome vi ricordate l'impostazione delle cartelle l'abbiamo fatta in una lezione se voi avete una cartella che si chiama come il nome del lavoro nella quale c'è il catalogo i raw i tiff i jpeg eccetera la spostate insieme il catalogo non perde i collegamenti si Rossano c'è già una diretta sulle maschere di luminanza ma creando un catalogo da catalogo non devo caricare le foto ma devo lasciarle lì dove sono ragazzi quando ho creato un catalogo Lightroom non caricate le foto createle le anteprime quindi io posso tranquillamente lasciare le foto dove sono e le vado semplicemente a importare vado a importare le anteprime nel mio catalogo le foto rimangono dove sono ok allora vado avanti allora se importo un catalogo di Lightroom su Capture lui perde tutte le vecchie regolazioni e riparte da zero le interpreta su Capture fa un'interpretazione gli strumenti sono diversi gli algoritmi sono diversi quindi non ti aspettare che sia esattamente identico ok fa il crop all'inizio dello sviluppo durante la post o alla fine lavorazione in Photoshop non faccio il crop se non è proprio necessario faccio il crop in impaginazione cioè posso avere una foto non croppata che magari ha una copia croppata per Instagram ma tendenzialmente non faccio crop perché le mie foto vanno a finire un impaginatore e sarà lui a fare il taglio ok si può cambiare la galleta del fondo su Lightroom sì nelle preferenze ok ok allora altra cosa vado avanti come aggiungere profondità a un paesaggio mi chiede Armano allora la profondità nel paesaggio la aggiungete creando dei piani e qua usciamo per fortuna dalle importazioni infarcataloghi o meno che oggi con il finder che non funzionava al 100% ma ha creato un po' di problemi allora creare profondità in un paesaggio significa creare dei piani i piani li create o in foto con il fuoco quindi sfoco la parte lontana o con le condizioni atmosferiche in questo caso io ho evidentemente un secondo piano con una foschia maggiore e le vado a creare cercando lì non andare in opposizione a questo mi spiego se io ho un paesaggio fatto in questo modo o un paesaggio fatto in questo modo in cui le scogliere più lontane hanno una foschia se io vado a zerare quella foschia se io qua vado a zerare il blu lì dietro quello che succederà è che appiattirò i piani quindi la prima cosa che devi fare Armano per creare profondità in un paesaggio è non toglierla la seconda è scegliere dove deve andare l'occhio e lasciare lì la luce una delle cose che aiuta la profondità è la vignetatura quindi creare delle aree più luminose delle aree meno luminose creare della luce ambiente quindi aggiungere che ne so una parte più luminosa con una radiale come in questo caso andando a illuminarla di più andando a aggiungere magari un colore leggermente giallo e quindi creare dei piani attraverso la luce e l'ombra non è che si aumenta la profondità in un paesaggio con una tecnica è una questione di analisi dell'immagine e capire come fare se io volessi aumentare di molto la profondità in questo paesaggio dovrei cercare di sfocare leggermente il secondo piano o di rendere il secondo piano leggermente più annebbiato per esempio in questo caso potrebbe essere alzando la luminanza dei blu soltanto in questa parte poi andando a togliere il cielo in modo da ammorbidire la cosa oppure andare a fare una selezione come può essere questa per esempio nella quale vado a fare una selezione per colore e quindi vado a prendere i blu vediamo se ci riusciamo a prenderne abbastanza aggiungiamo anche questi ok ho preso la punta della montagna dovrei riuscire a toglierla ma è un pochino più difficile da questo punto di vista posso andare a correggere con un pennello non voglio stare a fare 1500 regolazioni eh guardate adesso non me la cancella ovviamente ok qua ok vado a cancellare la montagna col pennello ho la maschera che mi permette di avere separata la parte dietro dell'immagine e quella con le montagne e io qui posso andare a fare delle operazioni che mi permettono di rendere quella parte un pochino meno evidente e forte no quindi per assurdo posso andare a abbassare il contrasto ok se io abbasso il contrasto dietro se io abbasso un po' l'esposizione o la alzo ancora quello che vado a creare è una differenza fra i piani molto maggiore lasciate stare che non sia probabilmente l'immagine ideale per fare questo tipo di lavoro ma se io aumento la differenza fra i piani aumenterò anche la percezione di profondità e tridimensionalità se vado a scurire il primo piano ho una percezione sicuramente più forte di profondità verso l'esterno io vado a abbassare l'esposizione nel primo piano e quindi aumento la differenza fra i piani dell'immagine ok questo è meno male l'obiettivo vediamo dove siamo arrivati allora maschera di luminosità non ora ragazzi metodo per rimuovere le occhiaie anche questo ok vado avanti allora abbiamo parlato di profondità allora aspetta che Mattia però la domanda sulle maschere di luminosità è interessante domanda sulle maschere di luminosità se prevedo di usarele su photoshop che tipo di sviluppo mi conviene fare sull'itrom può essere una buona soluzione avere un'immagine a basso contrasto ombre aperte luci appiattite allora tendenzialmente tu usi le maschere di luminosità per arrivare a un obiettivo non è che dici faccio lo sviluppo di store perché poi voglio usare le maschere di luminosità qual è l'obiettivo se ti servono le maschere di luminosità per aumentare il contrasto alla montagna quello che farò in sviluppo è cercare già di aumentare il contrasto alla montagna se mi servono le maschere di luminosità per avere un cielo più presente quello che farò sarà non fare sicuramente questo ma incominciare ad avere un cielo più presente quindi lo sviluppo non è fatto in funzione del fatto che poi userò le maschere di luminosità ma è fatto in funzione del fatto che voglio arrivare a un obiettivo so che non è questa la domanda Mattia non sto parlando di te però il punto è non è che perché vuoi usare le maschere di luminosità cioè il punto è quello lì a cosa mi servono è perché voglio aumentare la tridimensionalità nel cielo ok fantastico allora vado a lavorare in funzione della tridimensionalità del cielo lo sviluppo non è guidato dallo strumento che dovrò usare dopo ma è guidato da cosa voglio ottenere alla fine dall'immagine qual è l'obiettivo finale è chiaro che uno sviluppo super super stressato con un aumento del contrasto fortissimo con le ombre più chiuse e le luci più chiare mi darà meno possibilità dopo quindi lo sviluppo è tendenzialmente sempre abbastanza conservativo però quello che guida è l'obiettivo finale e nel caso potrebbero anche non servire le maschere di luminosità ok come fai a visualizzare il primo dopo sull'itro io sono una bestia credo che sia la barra al contrario quindi di fianco all'uno c'è una barra al contrario premi quel tasto lì io sono una bestia vado qua nella storia però è più semplice usare la barra al contrario ok è il tasto che c'è a sinistra dell'uno yep ok ragazzi scusate oggi sto facendo un po' di casino la rifaremo questa cosa sulle domande allora quindi spero di aver risposto a Hermano per quello che riguarda la profondità la profondità la costruisci davvero lavorando sui piani e secondo me il paesaggio è fondamentale qui se io vado a tentare di dare definizione a questa parte della montagna tolgo clamorosamente profondità all'immagine perché è questa nebbia questa nebbia creata dall'acqua della cascata che crea profondità nei piani quindi devo creare devo aiutare i piani che sono già presenti nell'immagine ok andiamo su una roba esatto Andrea ha dato la risposta con la battuta cosa che io non posso fare con la battuta di tastiera ok yep ora andiamo avanti altra domanda che mi arriva poi se avete altre domande scrivetele magari ragazze me le segnate tipo il metodo per rimuovere le occhiaie ok che dopo ce lo segniamo andiamo avanti profilo colore sul monitor ho un po' di confusione sui profili colore il profilo colore del monitor ha estensioni cc come i profili rgb o cmk che cosa modifica esattamente il profilo colore del monitor e perché mi hanno sempre detto di trasmetterlo allo stampatore insieme ai file da stampare cioè come si intersecano il profilo corporato srgb con lo spazio lavoro monitor srgb.tc allora ti rispondo nella maniera più semplice possibile perché mi interessa essere semplice e non spiegarti della roba tecnica che rischia di incasinare tutti anche perché se ci mettiamo a parlare di tecnica dei profili probabilmente stiamo qua due giorni allora molto easy il profilo del monitor è un profilo di calibrazione cioè anche qua occhio cerco di rendere le cose chiare più che darti esattamente tecnicamente la risposta perfetta anche perché ripeto non sono un tecnico sono concentrato sulle performance più che sul funzionamento tecnico delle cose quindi per migliorare le performance in questo caso considera che il profilo del monitor è un profilo di calibrazione cioè il profilo del monitor è un file che viene creato dalla sonda di calibrazione del monitor ok in questo caso io lavoro con un monitor eizo cg279x quindi ha la sonda di calibrazione hardware interna esce la linguetta e fa la calibrazione questa calibrazione produce un file produce un file che io trovo qua nelle preferenze di sistema monitor il monitor che io ho impostato è il cg279x potrei usare la sintic o potrei usare il monitor del mac come principale o tre monitor uso leizo come principale la disposizione per me è duplicata per comodità il colore è il profilo del cg279x non l'ho rinominato ma l'ho fatto stamattina user quindi è il mio profilo di calibrazione prodotto dal monitor io sul monitor uso il profilo di calibrazione prodotto dalla sonda ok diverso è il profilo di uso invece il profilo dello spazio di lavoro quindi qui ho uno spazio di lavoro che sono le impostazioni colore di photoshop il profilo del monitor è un file che dà al monitor degli input in modo che lui ti trasferisca in maniera più realistica possibili i colori il profilo attaccato al file è un profilo che permette a ogni device e a ogni software di interpretare il colore dell'immagine sono due cose diverse uno serve per interpretare il profilo per interpretare il colore dell'immagine in maniera corretta l'altro permette al monitor di trasmettere la luce nella maniera corretta ok lo spazio di lavoro è lo spazio di lavoro che utilizza photoshop e questo deve essere coerente con il profilo delle immagini col profilo colore delle immagini quindi ho immagini adobe rgb98 nello spazio colore di lavoro adobe rgb98 per photoshop qui non ci va il profilo del monitor e sinceramente il profilo del monitor dato allo stampatore che ha un monitor diverso dal tuo non serve a un cazzo scusate il termine il profilo del monitor viene fatto in questo modo poi facciamo una bella diretta sull'attrezzatura con Luca Zaffanella di Eizo al quale potete chiedere tutto quello che volete e ci concentriamo su queste cose il profilo del monitor viene fatto in questo modo ve lo spiego anche questo in maniera semplice i dati di trasmissione del monitor vengono azzerati cioè calibrati riportati a zero ok è come se io prendessi l'equalizzatore prendessi un mixer e riportassi tutto a zero non meno non più ma zero un mixer musicale poi attraverso l'ottimizzazione dei suoni vado a muovere i vari cursori e ottengo esattamente il suono che voglio allo stesso modo succede nei monitor prima viene calibrato cioè riportato a zero poi viene profilato ok e in base alla profilatura trasmette il colore corretto la calibrazione è figlia del tuo monitor la profilatura è figlia della calibrazione fatta sul tuo monitor quindi se tu dai un profilo il profilo di calibrazione del tuo monitor a uno stampatore che ha un monitor diverso non serve a un cazzo ok spero di aver risposto alla domanda yep parlando di calibrazione di colore per le foto da vendere stock che verranno stampate con quale profilo colore vanno salvate allora tendenzialmente sono foto che vengono caricate su web chiedi devi chiedere alla banca immagini che profilo colore vogliono sulle immagini di solito sono molto precisi e le banche immagini ti chiedono una dimensione una serie di dimensioni per il salvataggio dei file con delle caratteristiche molto precise quindi chiedi alla banca stock guarda nelle fac per i fotografi per i contributor e ti danno tutti i dati del del caso allora quale sistema di calibrazione usi perché anche Azo ha il suo software o usi quello dello spider aspetta un attimo ci sono due cose Azo ha diverse tipologie di monitor quelli utili di livello utile per la fotografia sono due categorie che sono i CS e i CG i CS sono monitor con un ottimo pannello con calibrazione esterna quindi devi avere una sonda per fare la calibrazione a quel punto uso spider che è una sonda ottimizzata per Azo o anche il nuovo X-Rite i1 display pro che sono ottimizzati anche per Azo faccio la calibrazione e il profilo viene prodotto dalla sonda di calibrazione con il suo software nel mio caso specifico uso un monitor della serie CG ok i CG hanno la sonda di calibrazione interna almeno quelli nuovi quindi uso Color Navigator che è il software di calibrazione adesso non si avvierà perché ho la duplicazione monitor quindi non funziona e non voglio incasinare la visualizzazione e Color Navigator lavora con la sua sonda interna fa tutte le sue calibrazioni puoi avere diversi profili di calibrazione io adesso non so se si vedrà nella diretta ma qua ci sono tutti i profili di calibrazione possibili posso averne 3, 4, 5 per me uso lo user che è il mio in questo momento dove vanno caricati i file di CC che mi forniscono i laboratori di stampa in Photoshop qua modifica impostazioni colore vado a caricare carico il profilo di CC e che sia un profilo di CC un profilo ad ob rgb dopo lo vado a usare quindi lo vado a prendere da qua e lo vado a utilizzare per fare le conversioni o ancora meglio dopo quello caricato modifica converti in profilo e vado a scegliere il profilo di conversione qua ok quindi li carichi da modifica impostazioni colore con la navigator usare anche le sonde esterne sì vero assolutamente non l'ho mai provato con una sonda esterna puoi usare tranquillamente con la navigator con lo spider assolutamente ok andiamo avanti profilo colore monitor spero di averti risposto Ernesto andiamo avanti e parliamo di fondi se questo sconosciuto allora opzioni di fusione andiamo a vedere come funzionano ve la faccio vedere in maniera molto semplice tinta unita bianca anzi usiamo l'arancione così si vede ancora di più forse allora fondi se come funziona funziona in questo modo io posso decidere di fondere questo livello con il livello sottostante in base alle caratteristiche del livello stesso se hai un Aizo collegato a un macbook pro che profilo per il mac non calibro il mac non calibro il macbook pro perché guardo solo l'Aizo so che il mac non è affidabile lo calibro adesso lo dovrò calibrare perché lo userò per i workshop però tendenzialmente è affidabile come è affidabile come viere all'Hollywood se capite il concetto ok quindi il profilo del mac è un profilo di una sonda di calibrazione cioè il mac stacco l'Aizo stacco la Synthic calibro il mac da solo attacco la Synthic calibro la Synthic da sola attacco l'Aizo e lo faccio calibrare da solo che fa da lui quindi ogni monitor viene calibrato per i fatti suoi tanto comunque in questo momento nel mio sistema di 3 monitor comanda l'Aizo e tutti gli altri sono servi in questo caso ok bene allora fondi se torniamo a noi fondi se cosa fa mi permette di fondere un livello sull'altro se io ho un livello tinta unita come questo posso decidere quale tonalità di questo livello fondere con quale tonalità del livello sottostante è chiaro che che tonalità ha un livello tutto arancione nessuna quindi io faccio questo e quando arrivo alla luminosità dell'arancione lui stacca ok perché fino qua l'arancione l'arancione ha evidentemente 155 156 di luminosità 157 stacche lo toglie quindi è inutile usare questo livello perché questo livello non ha gradazioni di grigio non ha gradazioni di luminosità ok quindi l'importante è il livello sottostante cioè io fondo l'arancione che non ha tonalità non ha differenze di tonalità con le tonalità di quello sotto in questo caso vado a fonderlo soltanto con le luci come funziona funziona in questo modo quindi attenzione quando un livello è un livello piatto e sotto invece c'è un livello immagine uso il livello sottostante uso il livello sottostante e gli vado a dire che deve fondersi solo da 139 di luminosità in poi ok quindi qui fino a 139 non si fonde nulla la luminosità viene misurata in 0 255 che sono i dati RGB ok quindi fino a 139 non si fonde nulla 156 quello che è adesso mi fermo a 139 dai se ci riesco non si fonde nulla da 139 a 255 si fonde tutto ok quindi si sta fondendo al 100% da qui a qui 0 da qui a qui 100 c'è uno zot c'è una scheda degli zot proprio sul fond di sé che te lo spiega Elvis in maniera molto molto chiara se io prendo clicco alt e sposto le freccine quello che sta succedendo è questo da 0 luminosità a 139 luminosità si fonde niente da 204 a 255 si fonde al 100% da 139 a 204 c'è la sfumatura da 0 a 100 diffusione cioè tutta la parte contenuta fra queste due frecce si fonde completamente l'arancione si fonde completamente con tutta la luminosità compresa fra 214 e 255 del livello di sotto l'arancione si fonde 0 con la luminosità compresa fra 0 e 139 con il livello di sotto da 139 a 214 c'è la sfumatura più chiaro? ok bene se io invece di avere un'immagine apriamo un'immagine recente se io invece di avere che cavolo ci mettiamo dentro mettiamoci questa dai potrebbe essere interessante guardate è un srgb usa il profilo incorporato che il documento non corrisponde cosa devo fare? usa il profilo incorporato sempre e comunque ok bene se avete domande fatele sul fond di sé copio e vado a incollare questa immagine sopra l'altra bene questo è il classicissimo proprio doppio esposizione brutta anche proprio brutta ok e ho un'immagine sopra l'altra scusate faccio una pausa ciao Simone domande meglio sviluppare in camera raw con profoto o srgb sia per stampa che per il web l'unico che non hai nominato secondo me è meglio sviluppare in camera raw con la dobbia rgb 98 e poi fare la conversione alla fine profoto come ho già detto in un'altra lezione non lo uso perché buona parte di quel profilo non è trasmettibile dal monitor quindi non vedo i colori che sto lavorando srgb è per il web e faccio la conversione solo alla fine quindi l'unica scelta che non avresti fatto camera raw e sporti in adobe rgb 98 e lavori in photoshop in adobe rgb 98 allora sono qua andiamo a vedere il fond di sé adesso che è diverso vado a fondere questo livello solo con le ombre lo vado a togliere dalle luci in modo che lei non abbia fusione nelle luci con questo livello delle strade ok magari dai facciamo una cosa figa qui sotto ci mettiamo anche anzi qui sopra ci mettiamo un bel livello in bianco e nero così è ancora più evidente ok ho fatto la fusione e ho messo la strada solo nelle ombre di lei ok posso fare un'altra cosa posso fondere con lei solo le luci della strada quindi in questo livello vado a togliere tutta la parte delle ombre e lascio la fusione solo delle parti luminose della strada in questo caso ho fatto due cose oppure faccio fondere su tutta l'immagine solo le parti luminose faccio fondere su tutta l'immagine di sotto solo le parti scure della strada ok di solito le doppie esposizioni si fanno in questo modo faccio fondere la strada soltanto con le luci di lei con le ombre di lei in modo che nelle ombre ci sia la strada ma contemporaneamente si capisce come è fatto il volto di lei eccetera 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 e poi magari per evitare di incasinare così tanto l'immagine vado a togliere le ombre ok in modo da renderla un pochino più semplice e far vedere il jeans sotto al posto delle strade e quindi lascio soltanto le luci poi eventualmente dopo vado a fare anche una maschera ok fondi se lo attivi ma il tuo sfondo copia è grigio no e questo è accento passaggio questo è accento passaggio ok allora fondi se lo attivo facendo doppio clic sulla banda mi esce lo stile di vello e qui sotto ci sono i fondi se questo mi permette di fare le classiche doppie esposizioni degli alberi dentro gli orsi o degli orsi dentro gli alberi ok perché vado a fondere le luci di una parte con le ombre dell'altra ok quindi io in questo momento ho preso le luci della strada le ho fuse con le ombre della modella e ho una orrenda doppia esposizione con lei montata in questo modo poi volendo qui vado ad aggiungere una bella maschera vado a mascherare la faccia di lei perché non mi piace che si fondi in questo modo e quindi ho il flusso all'1% quando non funzionano i pennelli è sempre colpa mia non è mai colpa di photoshop ricordatevelo sempre vado a fare in modo che non si fonda sullo zigomo per esempio che sulla bocca non ci sia fusione vado a abbassare il flusso in modo da avere una fusione più morbida in certe parti eccetera eccetera qui tolgo completamente la strada eccetera insomma posso andare poi a modificarlo come mi pare bene doppio clic sulla banda del livello doppio clic vado sul livello faccio doppio clic e lui mi apre le opzioni di fusione ho risposto? ok adesso bene siamo lunghissimi però non è un problema perché ho perso tempo io all'inizio quindi andiamo a vedere due cose allora la prima è la separazione delle frequenze mi chiede Sebastiano l'avete già fatta? l'abbiamo fatto nella diretta 19 del 30 marzo ok l'altra domanda che mi viene fatta è uniformare sfondo e pelle da Antonio comunque la rivedremo la separazione Sebastiano tranquillo vorrei capire come procedere per effettuare bene l'uniformità della pelle o di uno sfondo allora l'uniformità della pelle è un lavoro che si fa in diversi passaggi un passaggio lo puoi fare già in sviluppo per esempio con Capture One Dante il sommario negli zotto non lo mettiamo perché gli zotto non possono avere sommario perché vengono aggiornati inserendo delle schede in mezzo hai già la divisione per categorie abbastanza veloce usa il pdf come i pdf come sommario dicevo la uniformità della pelle viene fatta in tanti modi uno è lo sviluppo quindi già in sviluppo io posso uniformare la pelle poi dipende nel senso che l'uniformità può essere cromatica o di luminanza quindi Antonio se sei online intendi l'uniformità colore o l'uniformità di luminanza perché sono due cose molto diverse ciao Luca nel frattempo bentornato bentrovato ok quindi se devo uniformare il colore posso farlo prima di tutto in sviluppo con Capture One per esempio e poi posso utilizzare la mappa sfumatura così rispondiamo anche a Matteo e facciamo la mappa sfumatura di questo viso ok uno sfondo vale lo stesso discorso se voglio uniformare la luminosità di questo sfondo lo devo selezionare e andare a fare delle regolazioni se voglio uniformare il colore lo posso selezionare e metterci sopra un colore che lo uniformi ok ci sono tanti modi e diverse modalità per ottenere un risultato di qualità per evitare di far macchie allora questo riguarda il ci sono delle macchie nello sfondo e devo eliminarle allora le macchie le togli tendenzialmente o con Dogen Burn o con la separazione delle frequenze quindi o lavori sul colore della separazione delle frequenze oppure se io voglio uniformare le macchie della pelle di lei come le macchie della pelle di un qualsiasi pavimento le macchie di un qualsiasi pavimento vado a inserire una curva che aumenta la luminosità ma faccio completamente nera di solito per fare la maschera completamente nera se è bianca faccio Command I perché non sono sicuro che questo sia nero al 100% quindi faccio Command I per sicurezza flusso al 2% all'1 e poi mi metto qua e vado a togliere le macchie vado a togliere le parti che secondo me potrebbero essere troppo scure o troppo luminose per andare a uniformare l'aspetto della pelle e non crearla ovviamente piatta ma andare a rendere più ordinati i passaggi tonali evitando di avere delle macchie troppo chiare o troppo scure poca roba ma piano piano riesci a uniformare tutto qua c'è una macchina un po' più scura qua c'è una macchina un po' più scura io sto lavorando al 2% di flusso quindi probabilmente un po' forte perché rischio di fare delle macchie chiare però quello che faccio piano piano è andare a togliere le aree che secondo me sono troppo scure che non si combinano con il resto dell'immagine e questo vale sia per uno sfondo che per una pelle che per la texture di un macchina caffè per qualsiasi cosa ok tendenzialmente in dodge and burn o in separazione in separazione della frequenza la possibilità di lavorare sul colore e lì puoi essere più veloce perché il dodge and burn soprattutto per togliere le macchie e per uniformare queste cose è abbastanza lungo per esempio però è un ottimo modo per togliere le occhiaie parlavamo prima di togliere le occhiaie se io voglio alleggerire le occhiaie di lei è molto molto utile uso il bianco e nero per vedere meglio le sfumature dell'immagine le parti dell'immagine che sarebbero troppo scure le vado a schiarire leggermente deve essere sempre un lavoro che quasi non vedete e questo mi aiuta per andare a uniformare quelle parti andiamo a vedere la mappa sfumatura quindi questo una volta che ho tolto il livello è utile e funziona la mappa sfumatura è un livello di regolazione del colore e serve per uniformare il colore della pelle come la faccio? ve lo faccio rivedere così lo impariamo una volta per tutte dai poi dopo parliamo velocemente di oggetto avanzato e c'è una domanda sulle tavolette e poi andiamo tutti quanti a prenderci il famoso tè del post partita ok? allora mappa sfumatura devo fare prima due cose una vale a selezionare il colore più chiaro della pelle che diciamo potrebbe essere qua sempre fuori dai livelli di regolazione diciamo che potrebbe essere qua probabilmente il colore più chiaro della pelle ok? bene poi vado a selezionare nello sfondo invece il colore più scuro della pelle che potrebbe essere qua e gli do ok tengo lo scuro in primo piano e il chiaro in secondo piano Antonio dice ci sono tantissimi modi per migliorare un'immagine se un ritratto ci può essere una procedura ben precisa un paesaggio a colori va fatto in questa procedura eccetera eccetera non ci può essere un qualche cosa che riunisca questi metodi no infatti secondo me in realtà c'è un metodo che è quello che vi spiego che vi ho spiegato nelle prime lezioni che è un flusso di lavoro organizzato organizzato sempre nello stesso modo all'interno usi tecniche diverse le tecniche cambiano il metodo di lavoro è sempre quello sempre la torta a strati sempre prima il dettaglio poi la correzione dei difetti poi la correzione dei toni poi la correzione del colore sempre procedendo con lo sviluppo fatto nello stesso modo a quel punto io ho una certezza che ho un metodo di lavoro che è lo stesso e va bene per qualsiasi immagine all'interno ci vado a mettere delle tecniche differenti cosa ne pensi del tonality mask panel ho già risposto tutto il bene del mondo anche se non l'ho mai usato però sono persone serie ok bene mappa sfumatura ho selezionato chiaro e scuro della pelle tengo lo scuro in primo piano e vado ad aggiungere un livello di regolazione mappa sfumatura Photoshop crea una sfumatura con le ombre del colore che gli ho detto io e le luci del colore che gli ho detto io basta no non va bene se la mettete in colore già vi da una risposta cromatica che è quella di rendere tutto quanto grigio ok io la metto in colore intanto vado ok adesso a modificare quei colori nella mappa sfumatura ti rispondo dopo Carmine vado a modificare la mappa sfumatura quindi doppio clic clicco sulla mappa ed ecco sulla sfumatura ed ecco la mia mappa sfumatura che adesso vado a riempire io ho già per esempio una mappa sfumatura che si chiama incarnate leonora già fatta già pronta ho una personale che è un'altra mappa sfumatura che dà un altro colore pelle se volete vi preparate mille mappe sfumatura differenti ok torno a quella che ho appena creato ok è questa qua allora so che il primo piano è troppo grigio il colore chiaro è troppo grigio quindi vado a lavorare dopo ti rispondo Marco sul DNG quindi vado a lavorare su i colori primo il bianco il colore più chiaro deve essere praticamente bianco quindi questo lo sposto un po' in avanti e qui vado a metterci un bianco vero e proprio quasi bianco diciamo che rimanga sempre in quest'ambito lo rendo un pelo più giallo perché secondo me è troppo rosso e la stessa cosa faccio con questo cambiando leggermente la tonalità per renderlo leggermente più giallo poi devo andare a controllare le ombre che vanno bene hanno una saturazione piuttosto bassa le porto anche queste nell'ambito di quelle tonalità è una mia scelta dopodiché vado a mettere dentro i mezzi toni i mezzi toni andranno regolati portandoli un pochino più gialli un pochino più chiari sicuramente ok un pochino più brillanti e luminosi e do ok e poi vado a mettere i mezzi toni scuri io di solito uso cinque colori per una mappa sfumatura non è detto che debbano per forza essere cinque ok non è detto scelgo se fare i mezzi toni scuri più o meno saturi se li faccio poco saturi verrà verde se li faccio molto saturi diventa rosa maiale ok io di solito ne metto cinque bastano tre delle volte sono più che sufficienti se io prendo questo adesso ho la mia mappa sfumatura se io prendo questo e lo elimino se io prendo questo e lo elimino ho praticamente gli stessi colori ok quindi l'importante è andare a definire il centrale le luci e le ombre ok questa mappa sfumatura è in colore maschero tutto inverto la maschera per avere il nero e vado con un pennello bianco a scavare il colore con ovviamente il cento per cento permettetemi di farlo rapidamente ok ho scelto una pelle gialla con un primo piano abbastanza desaturo poi dopo la posso andare a modificare ok quindi vado a fare velocissima la mia maschera nella quale tengo di solito fuori gli occhi la bocca e le sopracciglia le sopracciglia in questo caso le ho prese dentro ma adesso le vado a togliere quindi tutto quello che non sono occhi e bocca e sopracciglia lo cavo se non dovete fare una modifica mostruosa non c'è bisogno di fare una mappa sfumatura precisa è peggio lasciare dei buchi e di solito la cosa peggiore è andare a far diventare arancioni i vestiti quindi qua tendo a stare un po' interno con la mappa sfumatura bene già sul collo mi ha dato un colore che mi piace molto sul resto del viso non mi dispiace per niente se devo dire la verità è un po' gialla però non mi dispiace affatto vado a correggere a modo qua vado a togliere questa parte volendo o a sfumarla leggermente adesso io questa mappa sfumatura la abbasso ok e la abbasso di opacità sotto al 50% quello che fa è dare un'uniformità alla pelle quindi togliere le aree più rosse o le aree più verdi di solito che ci sono nella pelle però lasciando un aspetto naturale se voi la tenete al 100% l'effetto è quello delle borsette che trovate su Vogue che di solito sono un po' troppo un po' troppo hanno una tendenza un po' troppo uniforme ok qua in questo caso per esempio posso rendere leggermente più rosso il colore intermedio ma soprattutto andare a lavorare sul bianco che è effettivamente un pochino tanto grigio quindi dargli un pelo di saturazione in più e vediamo cosa succede probabilmente ancora bisogno qua di essere più rosso e meno giallo ok e andiamo già meglio e andiamo già decisamente meglio ok quindi ho un colore abbastanza uniforme anzi totalmente uniforme in questo caso che poi io vado a mitigare con l'opacità ok secondo me tre cinque colori tre o cinque ok serve solo per uniformare ok rispondo a un altro pari di domande effettuare una correzione veloce della pelle puoi passare ad un eventuale dodge and burn e separazione delle frequenze si può fare o è sconsigliato lo puoi fare però occhio perché quando fai la correzione veloce della pelle il rischio è che tu vada a togliere quei dettagli che rendono la pelle quello che è quindi se fai la separazione e il dodge and burn che sono la parte più lunga fai direttamente la correzione lì non c'è bisogno che fai la correzione della pelle prima ma dipende dagli approcci per esempio Martina Romano che è una ritoccatrice fantastica sull'incarnato prima fa una correzione e in separazione corregge pochissimo corregge quasi tutti in dodge and burn quindi dipende tanto dall'impostazione che hai e da come ti trovi non so per esempio come lavora ultimamente Elisa che è qua del nostro staff e fa la ritoccatrice beauty e fashion anche lei quindi dipende tanto dall'impostazione ok perché non salvi mai in dng perché preferisco mantenere i raw originali il dng è un formato di adobe che ti dice adobe ti dice così potrai mantenere la compatibilità per sempre però di fatto quando tu fai un dng adobe reinterpreta i colori e i toni del file allora visto che non mi piace per niente l'interpretazione automatica dei colori dei file di adobe non mi piace proprio per niente non mi piace l'algoritmo di demosalizzazione standard di lightroom non mi piace l'algoritmo di demosalizzazione di lightroom in generale ma preferisco altre cose il mio file raw rimane originale poi se vuoi fai anche una copia in dng ma io non amo i dng tanto mi hanno detto dieci anni fa forse di più è perché un giorno non potrai riaprire i vecchi raw della tua macchina continuo a aprire raw vecchissimi e per adesso il problema non si è presentato nel momento nel quale dovessero smettere di aprire i vecchi raw mi faccio una copia di quei vecchi raw in dng e me la tengo da una parte ok ok allora non abbiamo più domande quindi aspetta non abbiamo più domande in diretta ne abbiamo fuori nel frattempo abbiamo risposto anche a un sacco di domande in diretta e cerco di rispondere a un'altra domanda di Elvis che è se in un'immagine lavoro con un oggetto avanzato finita l'elaborazione devo sempre rasterizzare il livello quando vado a salvare unire i livelli per fare un tiff o un jpeg allora funziona sempre così voi dovete avere sempre e comunque i vostri file con la diciamo così con tutti i livelli aperti divisi nella andiamo per esempio a questa immagine ok questa è l'immagine di ieri io ho tutti i miei livelli aperti con la correzione dei difetti con l'elaborazione con un colore eccetera eccetera io devo avere tutti i miei livelli aperti e poi salvo una copia ok se io devo salvare una copia in jpeg ne tengo comunque l'immagine con tutti i livelli aperti con gli oggetti avanzati senza gli oggetti avanzati con tutto quello che c'è dopodiché quello che faccio è semplicemente file salva con nome salva nel tuo computer qui dentro per esempio vado a salvare un jpeg senza livelli e poi eventualmente dopo che l'ho salvato lo riapro e gli cambio profilo però ho sempre il file con i livelli aperti sempre e comunque tutte le volte che mi serve lo devo poter aprire ok quale sistema usi per cambiare i colori su un prodotto se un cliente mi dice di far diventare il blu di una borsa su un giallo di un'altra borsa allora non è tema di oggi però diciamo che tendenzialmente io faccio la sostituzione colore con in color lab con le curve di color lab poi lo vedremo in una lezione magari ci occupiamo proprio solo di quello è un lavoro piuttosto complicato diciamo così che non ti faccio vedere adesso perché oltre ad essere un po' più avanzato del livello nel quale siamo credo che lo capireste in tre e quindi non è probabilmente il momento però sostituzione colore è un altro zot anche lui che c'è ok ragazzi mi fate una cortesia postate ci sono due corsi che secondo me sono molto interessanti fra poco andando avanti nella correzione incomincieremo a parlare anche di azioni ci sono due corsi che secondo me vi aiutano tanto uno è photoshop pro tools che è un corso dedicato a strumenti pro di photoshop c'è dentro credo anche alla mappa sfumatura ci sono tante robe utili e c'è già come iniziare a fare le azioni e ce n'è un altro di corsi che si chiama photoshop in action che è tutto dedicato a tutte le azioni e le automazioni che vi possono permettere di diventare più veloci in photoshop compresa la creazione di un sacco di cose come la separazione delle frequenze eccetera eccetera si Gianni lavori sui valori ti fai dare i dati tecnici i colori scusami le percentuali di colore lab sul quale andare a lavorare lavori con le curve e con i campionatori colori poi lo vedremo ok quindi adesso le ragazze vi postano sia photoshop pro tools corso fighissimo molto divertente secondo me con un sacco di strumenti validi e avanzati e un sacco di cose che abbiamo visto in parte anche in queste lezioni e photoshop in action è l'apertura del mondo delle azioni del quale parleremo in una prossima lezione sono due corsi di cui non avevamo mai parlato secondo me possono esservi tanto 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 utili ok bene ultima domanda che è le tavolette grafiche anche di queste parleremo quando ci occupiamo di intanto io torno alla visualizzazione di me stesso per così vi faccio vedere le tavolette parleremo di tavolette quando parliamo di hardware magari facciamo una diretta sulle tavolette e una diretta sui monitor in modo da avere più facilità da quel punto di vista riconoscere le cose ok gradient map è mappa sumatura per cambiare il colore pericoloso da un certo punto di vista però può essere può essere anche utile perché no occhio che però lo devi mettere non in colore ma in normale in quel caso perché altrimenti si fonde col colore di sotto quindi si puoi usare anche mappa sumatura per certe cose è che è molto più difficile gestire la luminosità allora qual è il punto usando lo stesso metodo che abbiamo usato per la pelle in normale e non in colore quello che avrei è la sostituzione del colore totale il problema è che devo avere dati molto precisi sulle ombre e sulle luci altrimenti è un casino però ci arriviamo ultima domanda se non avete altre tavolette grafiche le tavolette grafiche possono essere utili anche solo con Capture One o Lightroom assolutamente sì nel momento nel quale fai regolazioni locali quindi devi andare a fare per esempio una maschera dentro a Lightroom o a Capture One assolutamente sì perché sono comunque abbastanza veloci soprattutto dipende dalla tavoletta è chiaro che sono tendenzialmente meno utili di quanto non lo siano in Photoshop questo è poco ma sicuro io una cosa per esempio che non uso ma che ho usato in passato quantomeno per provarle sono le varie console sono uscite diverse console per il trattamento su Lightroom e Capture One non le uso perché onestamente non mi trovo comodo ho usato anche un mixer midi per fare quel tipo di lavoro la tavoletta secondo me è per me insostituibile non farei mai a meno da tavoletta che modelli allora io vi consiglio sempre la stessa roba perché sono assolutamente coerente con le mie scelte partiamo da Wacom semplicemente perché sono prodotti che vendete con molta più facilità non si rompono non vi danno problemi di driver una volta che c'è un problema di driver di solito quello che succede è esce la nuova versione di Photoshop e la tavoletta con Photoshop fa casino allora il consiglio è primo esce la nuova versione di Photoshop non aggiornate aspettate la seconda release o la terza perché di solito sono strapiene di bug ok la tempo che esce la seconda release quindi il primo o il secondo aggiornamento di Photoshop Wacom ha prodotto un driver nuovo e quindi il driver vi permette poi di lavorare bene con la nuova tavoletta se dovete scegliere una tavoletta in questo momento se è la prima io partirei con una Wacom Intuos non Pro stiamo parlando di 160 euro di tavoletta se invece siete già capaci di usare la tavoletta e volete uno strumento di qualità Wacom Intuos Pro la size per me è M perché L è troppo grande scomoda da portarsi in giro e la S per me è tanto piccola però dipende anche lì da come vi trovate voi conosco professionisti che usano la S da una vita e si trovano benissimo per me il problema è più si moltiplica la dimensione del monitor rispetto alla tavoletta e più è faticoso e quindi cerco una moltiplicazione ridotta quindi tendenzialmente Wacom Intuos o Intuos Pro sempre M come dimensione poi dopo passate avanti dopo potete pensare a passare alle simpiche eccetera eccetera se sono in Photoshop con più immagini aperte riesco a riaprirle tutte insieme su Camera Raw o no una alla volta una volta assolutamente io da quando uso Wacom Intuos Pro il mouse non esiste più eh ragazzi è così conosci le tavolette Anvon conosco le tavolette UG Anvon Wion XP tutto quanto ne ho provate un po' quello che è successo l'ultima volta che ho provato una di quelle tavolette erano una Wion e una UG è che dopo mezz'ora la prima volata contro il muro purtroppo ragazzi funzionano sì quando iniziate vanno bene sì vanno bene vanno bene vi permettono dei risultati di qualità quando incominciate a fare post a un certo livello e avete bisogno della sensibilità della punta di fare i tracciati veramente precisi di essere veloci no cioè non c'è paragone onestamente c'è qualcuno che ci lavora lo stesso quando andate su di livello diventa secondo me molto difficile su una tavoletta poi ci sono schermi sensibili che lavorano molto bene le tavolette sono sicuramente migliorate stanno sicuramente migliorando c'è ancora un gap qualitativo che è piuttosto forte secondo me poi non ho provato sono due anni che non provo una tavoletta cinese lo ammetto perché mi sono talmente innervosito la prima volta che si può girare la tavoletta per i mancini certo hai guarda hai un aggancio del cavo di qua tu la giri la usi come ti pare la usi a destra sinistra fai quello che ti pare fra l'altro la soluzione fantastica che hanno trovato sulle Sintiq è dove metto le perché questa fai fatica a girarla è abbastanza grande la soluzione ho fatto cadere qualcosa probabilmente la penna eccola qua la soluzione è molto semplice ti do una roba che è grande come un telefonino un po' più piccolo con soprattutto l'express key che aderisce perfettamente allo schermo soprattutto quando è pulito in questo momento non lo è la gomma qui sotto e te lo sposti dove vuoi se sei mancino lo metti a destra se sei destro lo metti a sinistra lo tieni in alto sotto se non ti serve lo tieni fuori dal monitor eccetera eccetera ed è veramente comodo devo acquistare un calibratore per monitor una sonda in modo che i colori siano fedeli alla realtà occhio saranno fedeli alla realtà speriamo se la sonda è una sonda di qualità se il monitor è un monitor di qualità molto alta però dimenticatevi che siano perfetti siamo molto vicini alla perfezione quando avete un monitor che costa un po' di soldi e che ha un pannello di una qualità veramente molto alta se no siamo comunque sempre all'80-85% quando va bene come faccio a capire se in base all'ambiente in cui sto editando non ho impostato il monitor troppo luminoso troppo buio e quindi rischiare di preparare per la stampa una foto con l'umidità sbagliata mi affido all'istogramma allora la calibrazione andrebbe fatta con la luce che usi di solito nell'ambiente se tu fai correzione cromatica non farla con la finestra aperta la fai con la luce e fai la calibrazione in base alla luce ambiente poi usi sempre quella non cambiare la luminosità del monitor mai dopo che hai fatto la calibrazione altrimenti la calibrazione è inutile quindi fai la calibrazione e poi la luminosità del monitor la decide la calibrazione è il calibratore la sonda che decide la luminosità del monitor volevo capire come mai una foto che ho pubblicato su facebook mi è comparso il bending mentre nel file salvato e su instagram no è un difetto che ha creato la risoluzione di facebook allora facebook comprime le immagini quando tu gliele passi se tu prendi un tuo jpeg da 7 mega lo carichi su facebook e lo riscarichi il file è completamente diverso facebook comprime le immagini quindi si il bending è dovuto a quello perché è un'immagine probabilmente adesso non mi ricordo esattamente perché cambia l'algoritmo in continuazione ma diciamo che è più vicina a un png con un numero inferiore di colori rispetto a un jpeg di alta qualità wacom ha un canale ufficiale dove poter comprare se si può chiedere allora wacom ha un sito dal quale poter comprare ha uno store online che è graffiland che è un nostro partner in realtà il nostro partner è wacom ma collaboriamo con graffiland dove spesso trovate degli sconti molto interessanti e dove gli allievi dei nostri workshop hanno degli sconti particolari altrimenti c'è amazon però io ti consiglio di fare il confronto fra graffiland e amazon perché molte volte il prezzo di graffiland è più basso e hai ovviamente l'assistenza di persone che ti aiutano molto molto bene io ho un monitor a capito a 200 euro lo calibro con la sonda x-ride nelle stampe mai avuto problemi tutto sta cosa ne devi fare assolutamente si calibrato con la sonda x-ride comunque ragazzi non avrete delle differenze mostruose cioè se lo stampatore non è un cane se gli date il profilo di stampa corretto se il vostro monitor è calibrato correttamente le differenze saranno minime è chiaro che se volete un risultato straordinario e volete sapere esattamente cosa succede vi serve un monitor di una qualità un po' più alta il driver della intus pro consiente di scegliere se tenere la verità o capovolta si si puoi gestirla da destro o mancino senza problemi anzi in realtà lo capisce da sola molto spesso ok guarda le ragazze mi hanno postato lo store di graffilen con le promozioni wacom così vedete cosa c'è io l'ho presa ricondizionata sul loro store ufficiale europeo certo altra opzione altra opzione ragazzi è l'usato ce n'è di usato su sta roba a quintali e non muoiono mai non muoiono mai sta roba ragazzi abbiamo fatto un'ora e mezza sessione di domandone divertente ci vediamo domani ok se non avete altre domande ma direi che chiudiamo qua perché ormai abbiamo sforato abbondantemente e qualcuno è anche morto per strada nel frattempo è svenuto ci vediamo domani alle 3 perché domani parliamo di pennelli parliamo dei pennelli di photoshop come usarli dei pennelli dinamici di come usare i pennelli in maniera particolare di come ottenere risultati attraverso le fusioni dei pennelli eccetera eccetera ok vi ricordo che come sempre tutti i vostri eroici i nostri eroici videocorsi sono in promo con sconti anche oltre 70% se non ho risposto a qualcuno scrivete e lo facciamo nelle prossime dirette molto volentieri e ci vediamo domani alle 15 ok grazie a tutti per le domande spero di aver ridato le risposte che cercavate ci vediamo domani alle 15 qui su fotografia professionale per parlare dei pennelli di photoshop ok ciao buona giornata ciao ciao ciao